Impianto CB su DAF CF480 Benvenuti in questo video dove ti dimostrerò qual è il lavoro che viene eseguito per un impianto CB d'eccellenza sul DAF CF480 Il primo lavoro che ho seguito è stato quello di installare la staffa Una staffa in acciaio lucida by Trekpoint specifica per DAF CF480 Dopodiché è stata installata l'antenna Titanium by Trekpoint Un'antenna da 2000 W di potenza, 1,90 m di altezza Massima flessibilità atta in modo particolare ad apparati super modificati Una caratteristica distintiva della Titanium è che è un'antenna già pretarata come ti dicevo Cosa significa? Che una volta installata è già perfettamente funzionante Ovvero sia non necessita assolutamente di nessuna installazione La staffa viene per l'appunto fissata mezzo due rivetti a battuta larga come stai vedendo in questo momento Il cavo si passa sotto alla guarnizione Si fa passare lì sotto nella parte della plastica Si entra qui dove c'è poi l'alloggiamento per l'Alan 48 Questo che stai vedendo è un Alan 48 doppio modulatore Eco-Core Roger B parloascolto potenza variabile 330 Watt Illuminazione mascherina e mascherina cromata by Trekpoint Ho anche installato l'altoparlante esterno per una qualità dell'ascolto migliore Andiamo ad ascoltarlo Attenzione 1 Se mi vai ascoltando per un controllino radio cambio Io sono Umberto CB by Trekpoint E mi trovo in provincia di Cremona Sulla statale 10 Cremona Mantua Effetto installazione assistenza CB da 29 anni Se anche tu desideri effettuare il tuo impianto CB sul tuo mezzo Che sia un camion, un mezzo agricolo, un'auto, un fuoristrada o altro mezzo Mi puoi contattare i numeri qua in sovraimpressione Allo 0 375 98 340 O sul numero di cellulare che è anche il numero di Whatsapp Il 335 446 595 Trekpoint spedisce in tutta Italia Quindi puoi anche ricevere direttamente a casa tua il materiale Da Umberto CB Trekpoint Ci vediamo al prossimo video